Se dovessi in una parola dirmi di Don Bosco il motto qual è? Lui ne aveva tanto, io li chiamo parole magiche, lui faceva anche il prestigiatore quando era ragazzino, ma diceva questo, noi facciamo consistere l'essere buoni, l'essere intelligenti, aveva il coraggio di dire noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri, ecco, questa era la parola magica diciamo di Don Bosco che è diventata la caratteristica spirituale, insomma ecco. Continuiamo.